Dopo tre affollatissime edizioni, quest'anno per la rassegna musicale Suoni Pindarici arriva la svolta internazionale. La punta di diamante della manifestazione, che si trerà il 4 agosto a Iacurso, piccolo centro tra Lamezza e Catanzaro, sarà il DJ set dei Mogui, acclamatissima band scozzese, che ha cambiato la storia del post-rock mondiale. In particolare sul palco di Suoni Pindarici salirà il leader cantante e chitarrista del gruppo Stuart Braithwaite. Ad affiancare poi il DJ set dei Mogui, in una giornata ricca di musica che prenderà il via alle 18, ci saranno i live di ben quattro band calabresi. Ad aprire questa lunga edizione è la giovanissima band dei Corsories proveniente dalla vicina Girifalco, il cui sound è una fusione tra grunge e blues. A seguire Alessio Calivi con il suo originale alternative rock e poi le prospettive di Gioia sulla Luna, band che spazia dall'elettronica al pop, dal new folk alla musica d'autore fino alle new wave. A chiudere, il parterre delle band calabresi, gli Other Voices, band dal respiro internazionale che si muove tra rock, dark, new wave e il miglior pop d'oltremanica. A coniugare il tutto, il DJ set di Fabio Nirta, DJ, produttore e manager musicale.